All'avversario C'è il cappione in carica della Superdrip Professional Challenge Tra l'altro, l'ironia della sorta, arrivano dalla stessa provincia Tramissolo della provincia e farese Poi si fa portare con virilla L'aria è iniziata a prendersi del fumo sollevato dalle gomme che scaricano lo strato di aree Grazie a tutti. Grazie a tutti.